I principi guida che abbiamo seguito nella progettazione dell'SF24 sono quelli di aumentare la guidabilità della vettura per dare ai nostri piloti un'auto più facile da essere sfruttata rispetto a quello dell'anno precedente. L'altro focus è stata nella robustezza, nell'avere una vettura che in pista fa quello che ci aspettiamo, che vediamo fare in Galleria del Vento. Nell'affrontare la progettazione dell'SF24 non ci siamo messi nessun tipo di vincolo. L'obiettivo era quello di realizzare una piattaforma completamente nuova che permettesse di superare le limitazioni di sviluppo che avevamo incontrato l'anno scorso con l'SF23. Quindi la macchina, tutte le aree della vettura sono state interessate da una completa riprogettazione. In termini di obiettivi di sviluppo l'SF24 ha gli stessi che abbiamo seguito nello sviluppo nella stagione dell'SF23 con l'arrivo dell'arrivo del pacchetto Barcellona in avanti e rappresenta una decisa rottura in termini di quello che cerchiamo di ottenere dalla vettura rispetto alle vetture dell'anno 22 e dell'anno 23. Il nostro obiettivo come ingegneri è quello di trasformare in grandezze ingegneristiche il feedback del pilota. Quindi la macchina nasce e si sviluppa partendo dai commenti dei nostri piloti trasformati poi in obiettivi ingegneristici.